perché è importante vediamo quindi indicazioni pratiche per acquisire fascino anche se sei malgasciona per acquisire charme allora la prima cosa che devi fare è l'abbigliamento l'abbigliamento gli uomini sono visivi diciamoci la verità guardano come una donna abbigliata ovvio che devi scegliere un abbigliamento conforme diciamo alla tua taglia fondamentalmente io ti suggerisco ripeto di fare pesi tenete in forma non ingrassare come una zampogna se può insomma cerca di prestare a prestare cura al tuo corpo che non sarà quello di una trentenne però potresti sempre mantenerlo in qualche modo allenato e una volta che diciamo devi scegliere un abbigliamento che tipo di abbigliamento devi scegliere non la minigonna tigrata a 50 anni o a 60 anni perché se ti metti la minigonna leopardata o la minigonna tigrata tu che sei malgasciona ma potrai attraere i catramisti poter attraere qualcuno ma alla fine ci farai sempre una figuraccia cioè rideranno ti rideranno dietro o ti etichetteranno come una di quelle devi usare degli abiti eleganti e raffinati gonne abbastanza lunghe non è che devo perché poi tra l'altro io consiglio sempre un vestito a tubino che fa fine non impegna che la gonna è lunga diciamo al ginocchio però essendo stretta poi quando ti siedi in come dire inavvertitamente puoi far vedere qualche cosa se perché tu non abbia delle macerie inguardabili allora puoi però dare degli stimoli stuzzicare anche la fantasia perché stuzzicare la fantasia è fondamentale per diciamo stuzzicare la fantasia è fondamentalmente importante per diciamo per generare mistero per attrarre non lasciarti prendere dalle mode se uno dice questo va di moda il leopardato il tigrato e comunque certo può andare di moda anche la cresta diciamo sulla testa no perché le mode diciamoci la verità ci sono delle mode che non passano mai di moda e come ad esempio per una donna il tubino per un uomo una giacca e una cravatta se vuole essere più elegante oppure un maglioncino una camicia insomma non passeranno mai di moda e se tu segui le mode è perché quell'anno lì va di moda leopardato che magari a 30 anni a 25 anni può stare anche bene ma a 50 anni ci fai la figura è come dire di una di quelle ma anche di basso livello non di alto livello per cui evita assolutamente io ti dico per impegni punterei poi ci sono diversi tipi però il come dire il tubino nero una scarpa col tacco non esagerata non mettere le scarpe fetish quelle con i chiodi con le borchie questo è un questo è molto importante perché deve essere una scarpa elegante comunque come il tubino una calza velata adesso va bene anche ecco quindi questo è un abbigliamento che ha un costo basso tutto sommato e fa sempre fine ti rende sempre elegante ovviamente devi imparare a camminare la camminata è anche molto importante perché fa sempre parte dell'aspetto visivo quindi ora non è che uno può iniziare a camminare però se ti guardi anche dei video ci sono disfilate di modelle insomma per imparare una camminata un po' ancheggiante un po' interessante per stuzzicare l'interesse dell'uomo perché quella è l'esca non è l'amo è l'esca quella e poi quello che devi fare tra l'altro tra le altre cose una volta che hai stuzzicato da questo punto di vista quello che devi fare è dimostrare di essere una donna di classe ma anche una donna non grezza non volgare cerca anche di avere una dizione che possa essere piacevole se riesci diciamo magari anche a fare un corso di condizione conta molto comunque e soprattutto sia per iscritto sia per diciamo da un punto di vista verbale cerca di non commettere errori soprattutto nello scrivere nel verbale a qualche errore potrebbe passare anche inosservato no poi ripeto se dipende sempre dall'altra persona è tutta un'interazione però comunque diciamo nello scritto poi non passi inosservato sembra di messaggi pieni di errori o approssimazioni ecco come fanno magari le ragazze di 20 anni che mettono anziché scrivere che scrivono k e anziché che ne so mettere cioè per mettono la x no cioè ecco queste cose qua evitale perché non sono una donna da donna di classe tu fatti questa domanda sempre ma la regina elisabetta la fu regina elisabetta se dovesse mandare un messaggio lo scriverebbe in questo modo oppure una donna che ritieni di classe se diciamo dovesse interagire con qualcuno interagirebbe in questo modo e quindi poi il suggerimento è anche crearti dei profili social che possono essere profili diciamo non da mignotone da corsa ma che ti facciano apparire come donna di classe ma fondamentalmente devi diventare una donna di classe cioè devi investire su di te devi investire certo è una dice ma io ho fatto la spiantata fino a 50 anni e beh cerca di trovarti un lavoro nuovo cerca di trovare cerca di realizzare te stessa perché soltanto le persone realizzate attirano maschi le donne realizzate attirano maschi realizzati fondamentalmente quindi abbiamo detto la l'autorealizzazione personale un look che come ho detto deve essere sobrio ma elegante c'era una canzone no di ben nato che diceva sexy ma austera questo è importante le calze con la riga nera al tempo stesso sexy ed austera perché non devi sembrare come una che ci possono provare tutti anche nei social anche di profilo social o anche dal vivo non devi sembrare una che se ci provo questa me la dà perché uno anche se poi tu non ci stai se un uomo ti etichetta subito come questa è una facilona e anche se tu a lui non gliela dai dirà vabbè questo è un mignotone anziché darla a me la darà a tutti gli altri no quindi invece devi apparire da subito come una donna che sta sulle sue come una donna che non dà troppa confidenza come una donna che non racconta molte cose quindi una volta che tu hai innescato questo meccanismo virtuoso per cui lui ti cercherà ti cercherà perché tu hai saputo stuzzicare da quel punto di vista hai saputo gestire al meglio diciamo la comunicazione quindi hai messo l'esca per cui lui sarà attratto da te ebbene questo fatto che lui ha tratto da te è un fatto molto utile perché essendo attratto da te che farà diciamo inizierà a investire su di te e più investirà su di te più si coinvolgerà perché questo è un altro punto fondamentale no l'attrazione nasce dal dai vincoli che si mettono quindi dovrei mettere dei vincoli delle condizioni è fondamentale e il mistero deve resistere anche dopo anni di rapporto però è ovvio che ci sono delle regole anche da seguire mai condividere il bagno assieme mai condividere troppi momenti assieme in una relazione di corpo a lungo termine se l'ideale sarebbe dormire in due stanze diverse in due stanze separate perché è ovvio che se tu dormi se ti vedi una volta no ma per anni è meglio dormire in due camere separate in due camere divise perché le flatulenze notturne che ne so il le cose notturne diciamo il russare da fare qua là alla fine come dire allontanano no le persone cioè sparisce tutto quel mistero sparisce tutto quella come dire quell'essere diciamo quindi qualche notte si può anche dormire la notte assieme per carità ma altrimenti è meglio diciamo mantenere le separazioni da questo punto di vista questo in una in una situazione a lungo termine ma anche e invece nella in una nuova conoscenza bisogna comunque mantenere mistero bisogna comunque mantenere attivo il mistero e se ti vai a vedere tutti i miei video scoprirai come fare perché poi è anche importante imparare a fare le cose non soltanto a diciamo non soltanto la teoria ma anche importante la pratica nel frattempo iscriviti a tutti i miei canali youtube seguimi su tutti i miei canali youtube anche il nuovissimo canale vabbè liberti dei narcisisti con massimo tramasco ma anche il nuovissimo nato ieri sedura le donne con massimo tramasco canali che sarà utile anche a te anche se sarai donna perché imparerai le strategie di seduzione degli uomini quindi potrai sgamarli in anticipo e quindi ovviamente iscriviti a tutti i canali